Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo giornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che sarà ancora l'insiede della variabilità in molte zone d'Italia per l'insistenza di quest'area di bassa pressione che piano piano si muove, sì, verso sud-est, ma che ancora si farà sentire. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, ampie schiarite sono previste sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna, anche sul versante tirenico, però vedete ancora parecchia nuvolosità al nord-est, sull'Adriatico, al sud e in effetti in queste zone saranno possibili anche delle precipitazioni, degli acquazzoni, forse ancora qualche temporale, ripeto, medio-Adriatico e regioni meridionali, le aree più colpite. Quindi in definitiva ci attende un giovedì che ci regalerà ampie schiarite sulle regioni di nord-ovest e poi anche su quelle di nord-est. Tempo in miglioramento anche sul medio-Alto Tireno e in Sardegna, però situazione molto variabile e instabile sul medio-Adriatico e al sud, ancora con degli acquazzoni, ancora con dei temporali e vi segnalo anche in quelle zone parecchio vento. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.